servono delle ciabattine da hotel se per favore possiamo procurarcele che ho le scarpe piene allora per i backstage ci serve una caduta l'altro anno hai dato una graniata cercare il cane dal capito che si è bellissima a ballare vai natale ammucca ma non mi fido di te è perfetto questa è quella buona da non lo so non lo so non ti piace sì sono belli allora abbiamo un problema perché non li prendiamo professionisti allora la trama è molto semplice si cammina e si ballicchia chi vuole può anche non ballicchiare devo avere in mano qualcosa sto cazzo se tu dicevi un altro di natale babbo natale metti faccio invece ben cosmi altro che gli autori sono contro di te si mettete degli ostacoli per vedere se poi io ce la faccio e vieni tagliate e allora con chi doveva succedere ma guarda che allucinante con nicola e con assurdo vittima del problema tecnico no no che è successo è partita la telefonata li prendiamo dalla strada non sono professionisti no no ma certo ma no tu non puoi tagliarlo perché siamo un testimone è l'unico che poteva fare questa parte di fare io sono nato e cresciuto da 52 anni a milano io di napoli ho solo il cognome e si voglia parlare napolitario marti quando nevica in casa lui resta insomma tutti voi sapete quanto io tenga diciamo a questa grande atmosfera di bontà di natale così così allegria buon natale ma anche tanto buon sottostefano buon natale a tutti volevo fare degli auguri sexy togliendo il maglione come regalo di natale tanti auguri buon natale però purtroppo sotto non è un altro tanti auguri a tutti voi viaggiate buon natale buon natale buon natale tanti auguri di buon natale auguri buon natale buon natale buon natale buon natale e allora cosa succede? che si è scaricato e quindi andiamo bene quindi non solo sono in ritardo ma vi devo pure offrire la vera dura tanti auguri auguri grazie a tutti